Importante convegno scientifico sulla reumatologia oggi a Piacenza, rivolto ai medici di famiglia, agli specialisti e agli infermieri, con l'obiettivo di trasmettere le frontiere del trattamento delle più frequenti malattie reumatiche e nello stesso tempo di puntualizzare la gestione pratica clinica dei pazienti. La reumatologia comprende più di 100 malattie diverse che a vario titolo interessano il sistema articolare, osseo e muscolare. Sono malattie molto complesse e a volte difficili da diagnosticare, tutte un po' caratterizzate dalla comparsa di dolore, ma poi il tipo di dolore è molto differente perché da un dolore meccanico, cioè da artrosi o da dolore della colonna. Il dolore infiammatorio invece è un dolore che inizia di notte e dà rigidità al mattino e questo è un sintomo di allarme. In ambito locale i pazienti del reparto di reumatologia sono in aumento. I pazienti potenzialmente affetti da malattie reumatiche sono tanti, rasentiamo oltre le 70.000 unità rapportate agli abitanti che fa Piacenza con la sua provincia. È un numero importante che ci chiedono di essere visitati e di essere diagnosticati, ma per fare questo bisogna aumentare l'offerta. In questo momento siamo in difficoltà, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Malattie a volte sottovalutate dai pazienti, ma che invece vanno riconosciute e affrontate da subito. Importante è la diagnosi precoce, importante è una collaborazione con i nostri medici di medicina generale, soprattutto in questo periodo anche di difficoltà di gestione, proprio per riuscire il prima possibile a poterli curare e a poter permettere loro di ritornare a fare una vita normale.